Sono Tommaso della Valle, volontario del progetto di servizio civile universale denominato Oasi Montagna presso l'ufficio tecnico del comune di Cambiano. Il nostro progetto è inquadrato nella gestione e nel censimento delle alberate e delle aree verdi del nostro comune. Creiamo un database contenente tutti gli alberi, tutte le alberate considerate pubbliche all'interno dei confini comunali, misurandoli, geolocalizzandoli e contrassegnandoli con un cartellino in modo tale da creare un database che è utile per lavori di manutenzione e di potature che avverranno in futuro. Ho scelto questa esperienza poiché rappresenta un ottimo investimento, un ottimo investimento per la propria formazione e soprattutto come esperienza personale. È un ottimo modo per porsi nel mondo del lavoro, per fare un'esperienza di qualità, ma anche perché è un lavoro retribuito. Detto questo vi auguro di divertirvi soprattutto, ma ovviamente di lavorare e di divertirvi. Ciao!